Per la riqualificazione di Via Longo il Comune di Teramo sta pensando al sisma bonus e all'eco bonus? Sì esattamente, non direttamente chiaramente perché in qualità di ente locale non abbiamo la possibilità di accesso a questi due super bonus, però attraverso gli uffici, attraverso anche un'interlocuzione con professionisti del settore stiamo cercando di valutare tutte le opportune strade, quindi stiamo lavorando al fine di riqualificare, rivalorizzare quella zona ma soprattutto garantendo il vincolo di destinazione d'uso perché quella è una zona a forte presenza di residenza residenziale, di abitazione e residenza pubblica per cui è opportuno che questo venga garantito soprattutto in un momento di difficoltà come questo, non possiamo dimenticarci di chi ha bisogno e dobbiamo però fare tutto, ripeto, in maniera funzionale anche rispetto a quello che è l'attingimento di questi bonus previsti dal governo. È una strada percorribile comunque? Sì è una strada percorribile, chiaramente, ripeto, non direttamente dal Comune, abbiamo avuto anche un'interlocuzione con dei vari organi e delle istituzioni di grado diverso da quello dell'ente locale, proprio per capire anche come gli altri comuni si sono mossi rispetto alla riqualificazione di stabili così importanti sul territorio. Intanto ieri c'è stato uno sgombero da una palazzina di Via Longo. Sì, purtroppo questo è un'azione che il Comune spesso si trova a dover fronteggiare. È vero che però noi dobbiamo garantire la legittima aspirazione, aspettativa di chi è nelle nostre graduatorie, mantenendo però alto il livello di legalità. Questo anche perché gli alloggi di Via Longo, proprio perché sono soggetti ad un'analisi, anche ad una valutazione di riqualificazione, non li stiamo assegnando, quei pochi che sono ancora nelle disponibilità, per evitare poi di avere problemi nel momento dei lavori, della partenza eventuale dei lavori. Ripeto, mi dispiace la spettacolarizzazione che magari ne è stata legata, e soprattutto in un momento difficile capisco anche la famiglia che è stata tolta. Però, ripeto, la legittimità delle persone che dignitosamente sono in attesa di un'assegnazione deve essere correlata dal Comune attraverso anche un'azione di legalità. E per questo è successo quello che i fatti di cronaca ci hanno riportato.